Dario Fo per Emilio Tadini, da Torno Subito, libro pubblicato dopo la morte di Emilio Tadini. La pomme rouge e l'anne en chêne, un cabaret satirico, molto sé. Mi ricordo di una scena in cui apparivano sei ragazze splendide che si spogliavano con molta eleganza fino a restare completamente nude, o quasi. Stanno per togliersi il perizoma e, opla, sei bindorloni con tanto di coglioncelli decorativi. Alla risata un po' sgomenta, anzi mugugnante degli spettatori, le stripteuse si guardano con stupore quei loro orpelli spuntati all'improvviso e mandano grida in falsetto fuggendo dal palcoscenico. Giuro, né io né Emilio abbiamo capito se quei falli fossero finti, se si trattasse di incantevoli travestiti o addirittura di un sestetto di ermafroditi di prima scelta. Dario Fo per Emilio Tadini